Grazie a tutti Non era una No, non ne voglio Vuoi la patatina o il sacco? Sono le due Il sacco e le patatine è esagerato secondo lei però Abbiamo fame Allora va bene No, no Io vorrei La reazione da protezione Le ombo Penso che ci devo dare In questo momento In questo momento No, era una cosa Non era una cosa Ma guarda con il cappello Che cosa? Vogliamo un cappello? Un cappello Che significa? Un cappello Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa però serio? Il referendum Il referendum Vuoi dire qualcosa? Votate sì al referendum Ok, io ce la faccio a dire Lucia ha qualcosa da dire Vuoi dire? Sei pronto? No, io sì Sono pronto Sono pronta Ah, devi Puoi essere inquadrata E' meglio Se ti metti Siccome qua c'è il microfono Ho capito Questa tecnologia Io sono confusissima Sei confusa Anche Allora, questo Volei dire? No Ah, Marco Una cosa semplice All'idea Ogni giorno È come un grande orgasmo Basta Ogni giorno? Ogni giorno Perché? Perché no? Secondo me è una cosa Un pochettino esagerata Secondo me è una cosa Un pochettino esagerata La devi motivare A questo punto No, senza motive Ma cosa ha detto? Ogni giorno Dice che è come un grande orgasmo Un banco Dove tu te? No, tu devi Ma se questa cosa E io non sono d'accordo Mi sembra la meno Sei esagerata No, io non ho un grande orgasmo Con queste patatine No, io non ho un grande orgasmo 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 Grazie a tutti.